sono iva luigi antonio scherillo e sono un educatore esatto con due t non è un errore perché sono un attore ma sono anche anzi soprattutto un educatore mi occupo di recupero di ragazzi a rischio e quindi cerco di far sì che chi ha sbagliato non continui a farlo al tempo stesso cerco di fare in modo che chi non ha ancora sbagliato ma è seriamente iniziato a farlo non inizi non inizi affatto circa 20 anni fa ho fondato un'associazione l'associazione di volontariato bbm production della quale sono il presidente e poco dopo ho fondato una compagnia teatrale gli educatori con alcuni ragazzi tra l'altro presi dai laboratori di teatro che facevo nei quartieri a rischio della mia città napoli e alcuni di loro sono ancora con me a distanza di 20 anni abbiamo iniziato quindi questo viaggio abbiamo iniziato a viaggiare per l'italia a visitare le scuole italiane di ogni ordine e grado portando i nostri spettacoli che sono un po diversi in realtà da quello che siete abituati a vedere perché noi non facciamo semplicemente spettacoli per le scuole noi costruiamo un'esperienza della quale lo spettacolo è la parte centrale ma che consta di tre parti in realtà perché c'è l'introduzione che in genere curo io poi c'è lo spettacolo e poi c'è l'approfondimento c'è un momento di discussione con i ragazzi a cui io tengo tantissimo il tutto è calibrato sulla soglia d'attenzione dei ragazzi gli spettacoli sono scritti e pensati per i ragazzi quindi è qualcosa di estremamente mirato e l'aspetto che ci interessa di più è ovviamente quello educativo quindi non sono dei semplici spettacoli per le scuole ma sono degli spettacoli scritti pensati e portati in scena per i ragazzi sono un qualcosa di diverso da quello che in genere viene proposto anche perché noi affrontiamo prettamente temi sociali affrontiamo temi come il bullismo come la memoria come la legalità la violenza di genere quindi il nostro è un target molto molto preciso oggi vedrete questo piccolo documentario diciamo non so come chiamarlo questo video tra l'altro l'aspetto divertente di questo video che mi vedrete sempre con un look diverso e mi vedrete con la barba corta con la barba lunghissima con la barba media e anche gli anche gli attori no nel trailer dello spettacolo le parti vedete prese dallo spettacolo ad esempio vedrete marco che pieno di capelli poi lo vedrete senza più capelli in realtà c'è un motivo che è un motivo diciamo ovvio è che abbiamo girato quelle scene in momenti diversi negli anni perché in catene che lo spettacolo il nostro spettacolo di maggior successo ha superato le 600 repliche questo spettacolo che è tantissimo voglio dire anche perché lo facciamo dal 2017 quindi in meno no in sette anni precisi di vita in catene è stato visto oltre da oltre 600 gruppi di ragazzi molto oltre in realtà abbiamo smesso di contarle dopo i 600 dopo le 600 repliche ma siamo molto molto oltre 600 repliche e quindi vi raccontiamo questa avventura ed è anche bello farlo vedendo come siamo cambiato in come siamo cambiati noi negli anni no da quando abbiamo iniziato con un testo ad oggi in cui tra l'altro quel testo è fortemente cambiato e fortemente cambiato perché è cambiato tenendo conto delle reazioni dei ragazzi e tenendo conto diciamo anche dei loro contributi perché qualche volta capita che i ragazzi fanno delle battute stupende i ragazzi che vedono lo spettacolo e noi ce le rubiamo ovviamente le battute in teatro si fa così e lo facciamo anche noi in catene è lo spettacolo con il quale abbiamo girato quest'anno veramente tantissime regioni italiane da reggio calabria fino a cantù è uno spettacolo che parla di bullismo e cyberbullismo è frutto di un intenso lavoro di ricerca e anche di confronto con psicologi e con altri educatori è uno spettacolo che parla ai bulli che parla alle vittime ma che parla anche ad un terzo tipo di persone ovvero gli osservatori mette i ragazzi di fronte agli effetti del bullismo e li mostra è anche molto divertente ovviamente deve essere divertente perché con i momenti divertenti noi creiamo empatia è fondamentale anche per mantenere l'attenzione dei ragazzi un bullo si ritrova al centro di un triangolo formato da catene e negli angoli ci sono tre persone tre persone che lo metteranno davanti ai propri errori e facendo questo noi metteremo tutti i ragazzi di fronte al bullismo ed eccoci qui andiamo a vedere il dietro le quinte del palco di in catene questo è il ring dove tutte le mattine nelle scuole italiane raccontiamo lo spettacolo in catene la storia dei tre personaggi che rincontrano il proprio bullo a distanza di tanti anni così come nel celebre romanzo di Dickens i tre personaggi raccontano la propria storia quello che hanno vissuto e il bullo il protagonista antagonista della nostra storia rivive quello che è il passato i ricordi di un tempo le sue azioni e le conseguenze che hanno provocato sulla storia dei personaggi che incontra e sul proprio presente in catene che è uno spettacolo anche di effetto proprio visivo perché c'è questo ring di catene non si capisce le catene in realtà rappresentano il peso ma non solo il peso perché poi ho scelto le catene in fase di scrittura ho scelto le catene perché le catene non rappresentano semplicemente un peso rappresentano anche un legaccio, un qualcosa che ci blocca, un qualcosa che ci trattiene le parole sono così, in catene parla molto del peso delle parole di quanto pesano delle offese, di quanto possono essere pericolose quelle che noi magari liquidiamo come semplici parole poi parla anche ovviamente della violenza fisica parla anche del cyberbullismo del sexting in particolare, dei pericoli del sexting dei comportamenti sbagliati proprio per quanto riguarda l'utilizzo dei social ma che, non mi hai riconosciuto? no, abitavamo nello stesso quartiere sono Marco ah, quella palletta di lardo, sì, sì, sì sì, quello e perché non rispondi? e perché dovrei rispondere? perché ti ho fatto una domanda, educazione, no? ah, giusto la stessa educazione che tu dimostri chiamandomi in quel modo? bombolone, non ti agitare non sono agitato vedi, c'è stato un tempo in cui le tue parole mi agitavano molto ma adesso... ma adesso? rimbalzano e ci credo che rimbalzano con la pancia che c'è, guarda la va ah, ti posso fare una domanda? certo ma perché indosso queste catene? beh no, no, aspetta, aspetta, non me lo dire, non me lo dire, è facile perché il fisico della mongolfiere ti servirà ancora se non te ne vuoi, guarda la va bombolone, oh, oh, oh magari sarebbe meglio chiederlo a chi me l'ha messa chi te l'ha messa? tu boh grassone bravo grassone e che c'è da ridere? non lo so ma adesso fa ridere c'è stato un tempo in cui questa parola mi ha fatto così male adesso invece è come il solletico sì, fastidioso ma in fondo fa ridere fammi capire che cosa sarebbe cambiato io sono cambiato io in incatene io interpreto un ragazzo obeso lo interpreto bene sono credibile che dite interpreto un ragazzo obeso e in realtà racconto la mia storia racconto la storia di un ragazzo, un adolescente molto timido, molto introverso io ho sofferto, ho subito il bullismo per tutto il periodo delle scuole medie delle elementari e delle medie poi non è che hanno smesso, anche perché io non ho smesso di essere obeso loro non hanno smesso di bullizzarmi ma io ho smesso di importarmene nel senso semplicemente ho imparato la nobile arte di ignorare gli idioti come dice il mio personaggio nello spettacolo mi sono costruito quello che io ritengo essere il mio superpotere ovvero l'autoironia l'autoironia è come l'armatura nei videogiochi io lo dico sempre ai ragazzi e alle ragazze perché è come quell'armatura che quando la indossi nel videogioco poi possono spararti, possono farti di tutto e non ti succede mai niente quindi poi hanno continuato a bullizzarmi ma io me ne fregavo semplicemente racconto quindi proprio la mia storia tranne per due cose io non ho mai pensato al suicidio però ci sono tanti ragazzi e tante ragazze che ci pensano qualcuno lo fa c'è un'emergenza in tal senso e quindi bisogna parlarne ai ragazzi di queste cose anche a quelli più piccoli molto spesso noi lo facciamo anche con le quinte elementari con le quarte non lo facciamo ma con le quinte a volte capita che comunque ne parliamo tocchiamo il tema anche del suicidio sia nella mia storia che poi nella storia del personaggio che invece interpreta Chiara ah la seconda cosa la seconda cosa che non è vera è che la mia non è una patologia non è un'obesità clinica sono così perché mangio tanto le diete è vero le ho provate tutte ma in genere vanno da lunedì al martedì pomeriggio ma che è no 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 ma che è un antifurto no 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 niente no la paparella paparella ma paparella oh dove sta paparella no no uh ma tu veramente non ti ricordi di me? no Sì No Sì E ti dico di no Sì E ti sto ripetendo di no Simone Simone E chi saresti scusa? Ma come chi sarei? Ma stavamo in classe insieme alle superiori Simone Adesso hai capito Che problema non mi ricordo C'era Nicola, Francesco, Giovanni Quello al banco a fianco è quello di Giovanni Non era vuoto Hai ragione, è colpa mia Forse il mio nome non ti dice niente Proviamo con i miei soprannomi Dunque vediamo Gamba di legno Lo storto Lo sciancato Ecco adesso ti sei ricordato La torre di Pisa, avevo riconosciuto La camminata sciolta di sé in volta Come stai? Bene Non lo so, dipende Ok, dipende Ecco, ecco Tu aiuteresti me? Certo, stavamo in classe insieme Tu ti ricordi che stavamo in classe insieme? Ti ricordi che stavamo in classe insieme? Ah! Secondo me è un problema Dovresti cambiare modello, capito? Ti ricordi che stavamo in classe insieme? Ah, ho capito Sto zitto Strano, strano Perché i miei ricordi Non coincidono affatto Con quello che hai detto tu In che senso? Ecco Io ricordo Che tu non eri mai dalla parte Di quelli che erano dalla mia parte Sei mai tu eri dalla parte Di quelli che non erano dalla mia parte Anzi, tu eri proprio il primo a prendermi in giro Se mi ricordo se era così E comunque Un amico ce l'hai Ah sì? Sì E chi? Io Sempre se vuoi ovviamente Certo che voglio Il personaggio che interpretò in In Catene È Simone Un ragazzo che per via di una disabilità motoria Vive il periodo scolastico In isolamento In In disparte rispetto agli altri Perché Viene bullizzato appunto Per questa sua difficoltà E la storia raccontata appunto Da Simone Nell'elaborato teatrale È la mia storia personale Che ho voluto raccontare Ai ragazzi delle scuole Perché Crediamo insieme con il regista Che una storia diretta e vera Sia molto più efficace Per far capire appunto Il messaggio che c'è dietro Le difficoltà che si possono incontrare Da ragazzi Vivendo il contesto scolastico C'è da dire però Che il mio personaggio Nonostante il suo vissuto tragico È un personaggio che prende la vita col sorriso La prende a testa alta Magari anche in modo divertente e simpatico Ed è per questa ragione Che i ragazzi di tutte le scuole Che hanno visto in Catene Empatizzano molto con Simone Col suo modo di vedere la vita Nonostante le difficoltà Nonostante gli ostacoli Piano piano eh Piano piano Tu chi saresti scusa? Non mi riconosci? No è un po' difficile Con sto asciugamare in faccia Perché lo porti? Perché non voglio essere vista in faccia Ah vabbè ho capito Ho capito Ti hai capito? Sì sei una di quelli là Come si chiama? Quelli là che fanno Quelli là Stai cercando di dire musulmana Brava Che io poi Guarda questa cosa per me È proprio assurda E non si può capire Perché Dalle mie parti Le belle ragazze Come Come sembri essere tu Devo dire Camminano a volto scoperto per strada Perché Fanno ridere il sole Oh sei un poeta No no L'ho letta su facebook Una frase capito No comunque nessuno Mi ha imposto di mettere il velo È stata una mia scelta Cioè fammi capire Voi li difendete pure Non solo vi costringono a fare queste cose Voi li difendete pure Io non li sopporto proprio Ma chi? I cosi là I musulmani Io invece non sopporto gli idioti Guarda un po' Sono idiota io E comunque te l'ho detto Non sono musulmana E poi se vogliamo Non tutte le donne musulmane Sono il velo come un obbligo Ah E il falafel È una polpetta di ceci Ah L'ho visto Sei musulmano Siamo pure il fatto Del falafel No era solo Per dovere di cronaca E sentiamo Chi Chi saresti allora? Una donna Con il volto in fuga Oh E in fuga da chi? Da un passato Che è sempre troppo presente Eh Però adesso sei tu Che stai facendo La poetessa Toglimi una curiosità Ma io Ti ho già visto Da qualche parte Ho già visto la tua faccia? Beh sì In realtà Hai visto molto più Della mia faccia Alla faccia Di sicuro ti ricordi Di me Tutti Si ricordano di me Purtroppo Arià sei tu? Sì Sono io Scusa Ma tu non eri andata in Germania? Oh sì Ero in Germania Io Ci ho provato sai Ho provato ad allontanarmi da te Da quello che mi avevi fatto Ma Come puoi allontanarti da qualcosa Che striscia nella rete? Come puoi allontanarti da qualcosa Che sarà sempre presente Su qualche diavolo di sito? Ti ricordi quella sera? Arià Lontane da te Da noi Sembrava tutto così bello Io ti amavo tanto Lo sai? Anche io ti volevo bene Mi volevi bene? Sì E tu fai qualcosa del genere A qualcuno a cui vuoi bene? L'ho capito solo dopo Che ho sbagliato E che ti volevo bene È un gioco Mi dicesti Dai Termiamo quest'attimo per sempre Tanto è soltanto una cosa nostra No? Per me e per te E io stupida Che mi lasciai convincere A girare quel maledetto video E poi tu Lo mandasti a tutti i tuoi amici Arianna Fu un errore Io sbagliai gruppo Sbagliasti gruppo Era pur sempre un gruppo E anche se fosse stata Una sola persona Sarebbe stato troppo C'è Un'ultima cosa Io Per anni Ho nascosto la mia faccia Sotto questo velo Mi vergognavo Della mia faccia Ma Ma sai che c'è Forse Sei tu Che dovresti vergognarti Tieni A me non serve più Indossalo tu Arianna è una ragazza Che purtroppo È vittima di cyberbullismo Lei per anni Nasconde la sua faccia Sotto un velo Proprio perché Prova vergogna Della sua faccia Perché è stato condiviso Un video In rete Un video Che era privato E che è stato condiviso Proprio da una persona Di cui Lei si fidava molto Questa La fiducia Ma riposta La porta a fare Un gesto Veramente Molto brutto E potremmo dire Sbagliato E quindi Metterà dopo anni Alle strette Il suo bullo Purtroppo Sarà Troppo tardi Piccola nota Importante Questa parte La parte Della ragazza In realtà È completamente Diversa Quando facciamo La versione Per le elementari Soprattutto Quando coinvolgiamo La quarta elementare In quel caso Non si parla Di argomenti Come il sexting Ad esempio Andiamo a parlare Di uno scherzo Sostituiamo Quindi questo Con uno scherzo È forte Ugualmente L'immagine Perché ci serve Anche per parlare Di cyberbullismo Però diciamo Noi riteniamo Che i bambini piccoli Con i bambini piccoli Si debba Avere qualche Piccola precauzione In più Quindi lo spettacolo È molto più morbido Un'altra cosa Che cambia Ad esempio Nella versione Per le elementari Non parliamo Del suicidio Sempre quando Sono coinvolte Le quarte Il mio personaggio Non fa Riferimento Al suicidio Quindi sono piccole Attenzioni Ma proprio perché Noi lavoriamo In modo mirato Sul nostro target Sui ragazzi Sull'età Dei ragazzi Che abbiamo In platea È giusto fare Degli accorgimenti È divertente È vero? Fa ridere No? Guardate che Non ci vuole niente Essere come me È facilissimo Basta prendere di mira Quelli che stanno Sempre da soli Quelli che non hanno Neanche un amico Quelli che stanno In un angolo Isolati da tutti Li scegliete E iniziate a prenderli In giro Tutti i giorni Della loro vita Uno, due, tre Cento, mille volte Quello è divertente Sì Tanto c'è sempre Qualcuno che ride Sempre qualcuno Che sta dall'altra parte Guarda e ride Perché si diverte Poi che ce ne frega Se quella persona Che viene presa in giro Non si sta divertendo affatto Che ce ne frega L'importante è che noi ci divertiamo Vedete questa faccia Questa è la faccia di un idiota La faccia di un bullo La faccia di una persona Che porterà per sempre con sé Il peso dei propri errori Il personaggio che interpreto In In catena è il bullo Cioè la persona Che in qualche modo Con le sue azioni Ha fatto soffrire O star male Gli altri personaggi Che incontrerà All'interno dello spettacolo Non ha volontariamente E volutamente un nome Perché Ivan ha pensato Di far sì Che ogni ragazzo E ogni ragazza Potesse identificarsi Con il personaggio Del bullo O meglio Con le azioni Che va a compiere All'interno dello spettacolo Vedremo il confronto Tra il personaggio Che interpreto E altri tre personaggi All'interno dello spettacolo Che Attraverso una serie Di dialoghi Questa conversazione Che faranno Cercheranno di fargli capire Quelle che sono state Le conseguenze Delle sue azioni Fino a un finale Che in qualche modo Parla direttamente Agli spettatori Ecco La forza Penso principale Di questo spettacolo È Tenere presente Che È rivolto Ai ragazzi E alle ragazze Delle scuole Perché Sono loro I protagonisti Spesso e volentieri Di queste situazioni Di questi Episodi Di bullismo Che A volte Sfociano In Dei finali Molto tragici E una di queste storie Parlerà appositamente Di questo Cioè Le conseguenze Del cyberbullismo Sul finale Dello spettacolo Vedremo Il confronto diretto Tra La platea Di spettatori Cioè I ragazzi E le ragazze All'interno Della scuola È il bullo Che cercherà In qualche modo Di fargli capire Cosa succede A comportarsi In un certo modo Noi non facciamo Spettacoli A scuola Noi creiamo Delle esperienze Perché Non siamo Non è quel teatro Che normalmente Viene riciclato Poi Con le scuole Con le scolaresche È uno spettacolo Che nasce Per le scuole Sono spettacoli All'interno Di esperienze Pensate E costruite Per i ragazzi E le ragazze Delle scuole C'è Del lavoro Dietro Noi ci definiamo Educatori Proprio per questo Perché comunque Tutti gli aspetti Dei nostri testi Tutti I comportamenti Che noi teniamo Dal vivo A distanza Devono essere Un modello educativo Cioè nel senso Noi educhiamo Già attraverso L'esempio Questo è qualcosa Di ovvio Non scontato Ma ovvio E noi cerchiamo Di farlo In tutti i momenti E soprattutto Durante le esperienze Che offriamo Alle scuole Quindi Sono spettacoli Su misura Tengono conto Della soglia D'attenzione Dei ragazzi Perché io posso Fare lo spettacolo Più bello del mondo A me mi portavano Quando andavo a scuola A vedere spettacoli Di due ore Dopo mezz'ora Io avevo voglia Di scappare Ok Si parla molto Di portare I ragazzi A teatro No Quante volte si dice Noi dobbiamo fare in modo Di portare i ragazzi A teatro Io credo Che il teatro Deba fare qualcosa Per andare incontro Ai ragazzi Perché se ci aspettiamo Sempre che qualcuno Faccia il primo passo Magari i ragazzi Restano lì Il teatro Resta lì E non si contreranno mai Allora Se i ragazzi Non vanno verso il teatro È il teatro Che si deve muovere E andare verso i ragazzi Ed è quello che noi facciamo Da 17 anni Con questi spettacoli Leggeri Divertenti Scritti Pensati Rappresentati Tenendo presente I nostri ragazzi Tenendo presente Chi è il nostro pubblico Tant'è vero che Noi di ogni spettacolo Ne esistono Varie versioni Perché varia Di poco Ma varia a seconda Dell'età del pubblico Che abbiamo seduto In sala Lì Il bullismo È stata l'esperienza più dura Io lo confesso Io avevo scritto Una decina di spettacoli Ripeto Sulla memoria Sull'educazione ambientale Avevo scritto spettacoli Sulla legalità Ovviamente Sul bullismo Wow Wow Perché Perché lì Ancora più C'era l'esperienza Dell'educatore L'esperienza dell'educatore Che mi spingeva a dire No questo Non dirlo No Evita No questo Meglio se lo diciamo così No Il ragazzo in questo punto Si perde No il ragazzo in questo punto Si sente giudicato È essenziale Sospendere il giudizio E delegare il giudizio A chi lo deleghiamo Alla persona stessa Io credo che sia una cosa essenziale Più di sospensione del giudizio Parlerei di rimbalzo del giudizio O meglio di delega del giudizio Come abbiamo detto prima Ognuno giudichi se stesso Quali sono le particolarità A un certo punto io mi chiedevo Perché poi Abbiamo avuto dei risultati importanti Non solo numerici Perché di quelli onestamente Ci fa piacere Ovviamente Fa piacere soprattutto agli attori Che vivono di questo Fa piacere a me Anche da un punto di vista Proprio di Diego Ok Lo dico tranquillamente Però Ci siamo chiesti anche Perché Questo successo Quali sono gli aspetti Che hanno portato Ad avere questo successo Perché i ragazzi Dopo Ci facevano tutte quelle domande Perché i ragazzi dopo Ci scrivevano Continuavano a scriverci Ci raccontavano le loro storie Si aprivano Un punto forte Di in catene E che ti Te lo mostra il bullismo È uno spettacolo Che te lo fa vedere Ti mostra il bullismo Ok Non ti sto raccontando Qualcosa Te lo sto mostrando E Quindi Agisce anche Tra virgolette Sui cosiddetti Neuroni specchio No? Sull'empatia Sulla creazione dell'empatia Io ti mostro fisicamente Che cos'è il bullismo Ti mostro fisicamente Come sto male Quali danni Mi ha causato Il bullismo Ed è diverso Da raccontarlo Oggettivamente Questo Credo che sia Il primo punto di forza Il secondo punto di forza È che non giudica In catene È uno spettacolo Che non ti giudica Ti lascia fare Ti lascia ridere Fino alla fine Fino a quando Lo spettatore Si autogiudica Ognuno Giudica se stesso Questa è una parte essenziale Secondo me E questa cosa Con in catene Avviene Terzo punto In catene Ti mostra Ti racconta Delle storie vere Perché Io sono obeso E racconto la mia storia Mio fratello Ha una disabilità motoria E racconta La sua storia Quindi È molto forte Come impatto emotivo E ritorniamo alle emozioni Che poi è quello che fa Qualsiasi spettacolo teatrale Deve provocare Delle emozioni In questo caso Ci interessa Provocare le emozioni Che a noi servono Che ci serve Che i ragazzi Provino in quel momento Poi c'è C'è un altro particolare Ed è che parla a tutti Tutti Si sentono Rappresentati Perché Noi non parliamo Solo ai bulli Non parliamo Solo alle vittime Parliamo anche Agli osservatori Il che significa Coinvolgere tutti Chi sono gli osservatori Sono quelli che Partecipano Perché non agire È un'azione Che cosa hai fatto Non ho fatto nulla Osservano senza Reagire Senza prendere Anche semplicemente Le distanze Da un qualcosa O quelle cose Obrobiose Tipo riprendere Qualcuno Mentre picchia Un'altra persona E questo È qualcosa Di importante Perché Vedi te stesso Vedi te stessa E quindi È più facile Metterti nei panni Di E questo è tutto Non vi resta A questo punto Che andare Sul nostro sito www.ilteatroascuola.it Di vedere Cosa pensano Di noi I ragazzi Le ragazze Ma anche Gli insegnanti E le insegnanti Che hanno visto In catene Qui troverete Una raccolta Di alcuni Dei commenti Sono solo alcuni Perché ne arrivano Tantissimi Di commenti E ovviamente Troverete tutti gli altri Visitando il sito Non vi chiedo Di credere a noi Magari Credete a loro Grazie a tutti